serve Maggio che di testa appoggia bene per Salacita triangolo lungo, lotta spalla a spalla Maggio in aria, sottoporta, attenzione si gonfia la rete si gonfia la rete si gonfia la rete Marechiano, Marechiano, Marechiano Amsic Marechiano Amsic spietato, implacabile sottoporta, oro colato Marechiano Amsic con il suo ormai consueto Maida Stach, quello che tocca diventa oro Marechiano Amsic, tre gol per lui in questo campionato, in altre tante partite, è stato lestissimo, sottoporta con il destro a deviare l'appoggio di Maggio, Amsic ha beffato l'anticipo di carrozzieri e ha infilato la porta avversaria con il terzo gol stagionale il primo per questa sera al quattordicesimo del primo tempo Napoli 1 Palermo 0 recupera il pallone Salaceta vediamo il Napoli con Pia in aria di vigore Pia Pia verso il fondo si ferma scarica per Amsic sinistro Salaceta il pallone in mente si gonfia la rete si gonfia la rete si gonfia la rete vai così Panterone Salaceta vai così Morfeus Morfeus Salaceta la grande resistenza del Napoli ha trovato nel suo leader il capo della resistenza Marcello Salaceta primo gol in questa stagione meritato tutto per lui fantastico formidabile Salaceta che ha sfruttato questa indecisione in uscita di Amelia riguardiamo tutto con Pia che ha difeso bene il pallone poi Amsic la conclusione non ci arriva Amelia e poi Salaceta prima la traversa e poi da terra devia il pallone in gol la prima rete di questa stagione il primo gol dopo i cinque mesi di sofferenza tutto per lui Marcello Morfeus grazie a tutti